Rosina, visto che ci siamo liberati di Don Bartolo, perché non andiamo a vivere insieme? Sì! Guarda che bella questa casina, vero Rosina? Sì, bellissima! Bene, adesso che abbiamo una casa, una grande cucina, perché non mi preparo una bella tortina? Allora, me la prepari? Ti devo dire la verità, io non so cucinare e non so neanche fare i mestieri. Don Bartolo è iscritto a un corso per fare i mestieri, ma non c'è stato nulla da fare, sono una frana. Cosa? Non sai cucinare? Non sai fare i mestieri? Sono costretto a lasciarti! Con questi sogni ci dovevamo vivere!